Quanti ne mancano? Pochissimi. Quattrocento. Beh, avremmo zuppate per volare infinite. Perchè sto ficcia di pissa? Fa coi funghi. Potenzio che mi continui a fissare. Magari non so che c'è l'asce con efficiency. Anzi, come fa questo? Qua è sto botto? La Dianne und Ardened la usano un bot di persone. Dov'è visitare l'inland e quest... Non ne posso più, Titan. Posso ripigliare funghetti. Io voglio l'isola tipo qui là di Time Deo. Bellissimo. Sono tutta buildata per bene, con tutte le zone fatte bene. Buildata? Tutta bella. No, no, voglio di buildare. L'avrei fatto molto volentieri, ma non voglio. Che due scatole. Manca poco, dai. Allora, ti dico precisamente quanto... Mancano duecento funghetti, dai. Su. Non so se l'ascia d'oro è più potente di quella in diamante. Ma già così è OP, non credo serva upgrade. Cioè l'unica update sarebbe quella in legno che distrugge tutto in un colpo. Quella sarebbe una bomba. Sì. Vabbè, poi click. Pum. L'intero fungo scompare. Ma non credo che va. Ok, vai. Oh, sì. Fatto. Via. Torniamo all'isola. Ora per fare... Però per upgradearlo ci servono i funghetti rossi. Sì. Ma dove? Ma que... dici questi? No. Vabbè, guarda nella cassa che forse nemmeno abbastanza. Non credo... ... abbastanza. Oh veda. Chi non me la fa fare? Dico quanti ne vuole. Eh sì, prima. Warming. Non me li... non me li da. Li trovo. Cosa no? Ne vuole quattro per... uno stack per lato. Se vuoi lo faccio io. No, tieni il minion. Ah che, pensavo che fu da quelli incontati. No. Ah. Ok. Quanti ne mancano? Nove. Nove. Uno e le patate. Le patate veri easy. Perché le patate manca il tier 2 che in realtà abbiamo già fatto. Si potrebbe teoricamente rifare. Ma... Ah, ma manca ancora un boss per sbloccare quello incontato di funghetto. Servono 5k. Ok, quindi... Pondoniamo l'idea di fare funghetti incantati. Vabbè qui girano i funghetti. Viene da ammirare il funghetto che gira, blu. Guarda che sto ponendo i cactus. Cactus ne abbiamo 7 incantati. Forse ne è quasi abbastanza. Mira il funghetto che gira. Dov'è? Wow, veri bello. Allora, come torna? Ehm... Ok. Ehm... Direi che... Bene. Direi di girare tutti i little frame. Tutti a caso. Ma... Ah dai... Allora, cosa possiamo upgradare, Easy? Boh... Questo è un tier. Sicuramente. Ne abbiamo solo più 9. Lo slime mino. Lo slime? Almeno ci servono le charted cose. No, la slime le vuole incantate. Potato al 2 e potato al 4. Gravel. Perché questa cassa tier 2 water non ne abbiamo più? Cactus al 4 quanti ne vuole? Voglio vedere. Possiamo fare il gravel al 4. No. Devo fare una... Cactus al 4. Ci manca... Eh, ma deve fare l'Enchanted... Ne abbiamo 7. Ne manca una. No. Dobbiamo... Dobbiamo pigliare 8 stack e cuocerli. C'ho voglia di fare 8 stack di... Quindi ho fatto il nostro call. Hai venduto? No. Sei sicuro? Non l'ho vero. 8 stack di cactus e poco, eh? Dal motion laser. Sono ricaduto in sto buco... Madonna. Madonna. Ah... Rom... Qua. Che poi non è 8 stack, è 5 stack. E' pieno... E' sempre pieno sto motion laser comunque. C'è la gente che pesca. E' pieno... E' pieno... Il Science. E' un nostro dio, E' un suo legume. Uno. E' un suo legume. Il nostro dio, C'è il suo legume. E' un suo legume. E' un suo legume. E' un suo legume. Un tatto, Ho uno stack Uno sta cuocendo Siamo a due Ne mancano quattro No, ne mancano tre Ne mancano tre stack di cactus Abbiamo fatto anche il cactus Stai prendendo? No Siamo a due Quello che era il lobby con me ci ha rinunciato Boh, io finirei i cactus e poi li stopperai qua per oggi O vuoi fare qualcos'altro in particolare? No Basta D'altro ora Oltre che a fare minion No, per ora Boh Non troviamo un modo per fare i soldi Soldi Eh ma la scelta è tra o fare i soldi Hai messo, hai appato il gravel Nice Se vuoi mettiamo un botto di emerald minion A uppati E vendiamo gli emerald Vedi una cosa Se ci guadagniamo di più a vendere i diamanti o gli emerald Ok Che metterli a uppati poi un attimo Con la velocità che hanno adesso Bella domanda Bella domanda Che cos'è? Whip Allora Un blocco di emerald 54 Un blocco di diamante 72 Due un blocco No No Blocco Vale più il diamante Vale più diamante Vale più diamante Più il diamante Eh Whip Private Island Quattro il cactus Sembra che so più o meno tutte e due uguali Vanno alla stessa velocità mi sembra Diamante va a 18.3 Lo smeraldo va a 17 Sembra che Che lo smeraldo è un pochino più veloce Un secondo più veloce Un colmino di ferro adesso ferma schifo Pure quello di col Cioè ogni 7 secondi Così quanto la cobles Di ferro ne abbiamo un bot Sì Al vetro te lo metto nella sabbia Perché c'ho sto coso sopra che mi vuole Non so mi sto triggerando anche me Va bene i cactus un attimo e cuoceranno tutti Allora Facciamo solo una lista Te ne mancano 9 hai detto 9 vero Uno è il cactus Uno è il pumpkin Il potato volendo easy Ci sono 3 E mancano 6 cosa vi vediamo Proviamo un hopper Sì credo sia qua in basso Guarda Budget hopper Ah hopper normale lì Dopo Non si può Sì Non è Sì Questo è Che Sto 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 l'arro che sta quando prendi l'arco in mano da un arro nel l'osco in alto prende quello design team is in your inventory because you are holding your bow currently switch to your elder item to see the item that was there i voli fregargli l'arro con l'hopper vuoi sì perché tipo c'è la gente no che c'è il barrier block che c'era il bug prima per prenderlo dalla anvil ho capito che che sei però non va lì lì Oh Ma cos'era? C'era una stazza redstone. Giuro di averla vista. Cosa? C'avevo il cursore. Ah, la vedo di nuovo. Redstone 19%. Ah, è la cosa del massimo di redstone. Ah, è su to your island. Sei tu che è. Ho capito. Che dopo sia io. Hai solo un tot di redstone utilizzabile. Ok, 60 di cactus e poi ce l'abbiamo. Basta. Vai, daaa. Basta. Senti che bella musica. Ma vanno i clock. Fai un clock. Cos'è potremmo fare una farm? No, prova a fare un clock per cortesia. Per capire se si può mettere il dispenser che... Che in automatico... Droppa il bomb mill. Tipo poi lo colleghiamo alle zucche qua. Così non dobbiamo aspettare che cresca. Ma no, ma tanto se bombilli. Quello è un fuck. Quando sa... A cosa servono i noteblocks? Sono i pants. Mi ricordo i lucky blocks Skywars. Ok. C'è l'abbiamo. Boom, boom. Il cactus minion da va? Ok. Il cactus minion da va? Ok. 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 Sconverto sta cassa in tier 4 Bello cambiano pure musica quando te le leve e te le rimetti Senti che musica è bella Non ti rilassa È proprio un bambino felice Io voglio farmi un armor più bella di quelle che abbiamo adesso Siamo per un armor più decente Tipo la magma cream armor Guarda è bella 25k di magma cream dai Ne mancavano 7 7 Tier 2 Ci rificco 7 abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Io direi che la prossima volta La vedi la cassa in alto del tier 3 Sì La prossima volta Facciamo tutti quelli Sì qua Tutta la cassa in alto del tier 3 Conta che magari uno ce lo possiamo saltare e fare la patata doppio Patata tier 2 puoi farlo già subito volendo E poi abbiamo ancora un bambino Va bene Possiamo stoppare qua Saluta Addio Mi lasciamo con questa musichetta bellissima Tutta la cassa in alto del tier 3 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 Tutta la cassa in alto del tier 3